Dal luogo dell'omicidio alle aule dei tribunali, passando per testimonianze e sentenze. Come cronista, Ermanno Mariani, giornalista di Libertà e scrittore, si è occupato di oltre 50 omicidi e ne ha raccontati 20 nel libro I Misteri di Piacenza, Oscuri delitti 2. Il volume, edito da Parallelo 45, riprende la prima edizione e aggiunge altri sette casi, tra questi anche il delitto Pomarelli e quello del professor Manesco. Nel titolo ho parafrasato I Misteri di Parigi, di Sue, un vecchio libro dell'Ottocento, ovviamente prendo le distanze da questo maestro delle letterature, anzi lo consiglio. I Misteri di Piacenza sono una raccolta di 19 delitti che trae origine da una mia vecchia pubblicazione che era Oscuri delitti, che ho mantenuto nel sottotitolo. Il filo conduttore di questi casi è il fatto che o si tratta di delitti irrisolti e quindi rimasti senza colpevole, oppure di casi indiziari dove il colpevole, sebbene individuato e condannato, fino alla fine ha sempre detto di essere innocente. Si aggiunge poi qualche caso particolarmente ferato che aveva suscitato un clamore o comunque casi clinici di patologie criminali, cliniche che ho voluto inserire. La copertina è stata illustrata da Giovanni Fergheri, che è il disegnatore di Dylan Dogo, nella copertina da incubo, come sono anche questi racconti. Il volume è disponibile nelle librerie e online.